Posta ciascuno di voi fare esperienza della guarigione e della libertà che vengono dall'incontro con il perdono e l'amore gratuito offerti nei sacramenti della riconciliazione e dell'Eucaristia. È l'auspicio che Papa Francesco ha rivolto ai membri della Papal Foundation ricevuti in udienza in Vaticano. Il Pontefice ha inoltre espresso gratitudine per l'opera dell'organismo, tesa a promuovere lo sviluppo integrale della famiglia umana. Grazie a tutti.